Pierpaolo Pasolini Il romanzo delle stragi Io so, io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, e che in realtà è una serie di golpes, istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna, dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di golpes, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia, infine, gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione. Una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna, 1974. Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con l'aiuto della CIA e in second ordine dei colonnelli greci e della mafia, hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 1968, e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l'altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali, per tenere in piedi, di riserva, l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato, a giovani neofascisti, anzi neonazisti, per creare in concreto la tensione anticomunista, e infine a criminali comuni, fino a questo momento, e forse per sempre, senza nome, per creare la successiva tensione antifascista. Io so i nomi delle persone serie e importanti, che stanno dietro a dei personaggi comici, come quel generale della forestale, che operava, alquanto operettisticamente, a Città Ducale, mentre i boschi italiani bruciavano, o a dei personaggi grigi e puramente organizzativi, come il generale Miceli. Io so i nomi delle persone serie e importanti, che stanno dietro ai tragici ragazzi, che hanno scelto le suicide e atrocità fasciste, e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killer e sicari. Io so tutti questi nomi, e so tutti fatti, attentati alle istituzioni e stragi, di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa, o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero, coerente quadro politico, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere, ed è l'istinto del mio mestiere. Credo che sia difficile che il mio progetto di romanzo sia sbagliato, che non abbia cioè attinenza con la realtà, e che i suoi riferimenti a fatti e persone reali siano inesatti. Credo inoltre che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, in quanto intellettuale e romanziere, perché la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il 1968 non è poi così difficile. Tale verità, lo si sente con un'assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi anche giornalistici e politici, cioè non di immaginazione o di finzione, e com'è per sua natura il mio. Ultimo esempio. È chiaro che la verità urgeva, con tutti i suoi nomi, dietro all'editoriale del Corriere la Sera, del primo novembre 1974. Probabilmente i giornalisti e i politici hanno anche delle prove, o almeno degli indizi. Ora il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente a chi non solo ha il necessario coraggio, ma insieme, non è compromesso nella pratica col potere, e, inoltre, non ha, per definizione, niente da perdere, cioè un intellettuale. Un intellettuale, dunque, potrebbe benissimo fare pubblicamente quei nomi, ma egli non ha né prove né indizi. Il potere e il mondo che, pur non essendo del potere, tiene rapporti pratici col potere, ha escluso gli intellettuali liberi, proprio per il modo in cui è fatto, dalla possibilità di avere prove ed indizi. Mi si potrebbe obiettare che io, per esempio, come intellettuale e inventore di storie, potrei entrare in quel mondo esplicitamente politico, del potere o intorno al potere, compromettermi con esso, e quindi partecipare del diritto ad avere, con una certa alta probabilità, prove ed indizi. Ma a tale obiezione io risponderei che ciò non è possibile, perché è proprio la ripugnanza ad entrare in un simile mondo politico che si identifiche col mio potenziale coraggio intellettuale a dire la verità, cioè a fare i nomi. Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. All'intellettuale, profondamente e visceralmente disprezzato da tutta la borghesia italiana, si definisce un mandato falsamente alto e nobile, in realtà servile, quello di dibattere i problemi morali e ideologici. Se egli viene meno a questo mandato, viene considerato traditore del suo ruolo. Si grida subito, come se non ci si aspettasse altro che questo, al tradimento dei chiedici. Gridare al tradimento dei chiedici è un alibi, è una gratificazione per i politici e per i servi del potere. Ma non esiste solo il potere. Esiste anche un'opposizione al potere. In Italia questa opposizione è così vasta e forte da essere un potere essa stessa. Mi riferisco naturalmente al Partito Comunista Italiano. È certo che in questo momento la presenza di un grande partito all'opposizione come il Partito Comunista Italiano è la salvezza dell'Italia e delle sue povere istituzioni democratiche. Il Partito Comunista Italiano è un Paese pulito in un Paese sporco, un Paese onesto in un Paese disonesto, un Paese intelligente in un Paese idiota, un Paese colto in un Paese ignorante, un Paese umanistico in un Paese consumistico. In questi ultimi anni tra il Partito Comunista Italiano, inteso in senso autenticamente unitario, in un compatto insieme di dirigenti, base, votanti, e il resto dell'Italia, si è aperto un baratro, per cui il Partito Comunista Italiano è divenuto appunto un Paese separato, un'isola. Ed è proprio per questo che esso può oggi avere rapporti stretti come non mai col potere effettivo, corrotto, inetto, degradato, ma si tratta di rapporti diplomatici, quasi da nazione a nazione. In realtà le due morali sono incommensurabili, intese nella loro concretezza, nella loro totalità. È possibile, proprio su queste basi, prospettare quel compromesso realistico che forse salverebbe l'Italia dal completo sfacelo, compromesso che sarebbe però in realtà un'alleanza tra due stati confinanti, o tra due stati incastrati, l'uno nell'altro. Ma proprio tutto ciò che di positivo ho detto sul Partito Comunista Italiano ne costituisce anche il momento relativamente negativo. La divisione del Paese in due Paesi, uno affondato fino al collo nella degradazione e nella degenerazione, l'altro intatto e non compromesso, non può essere una ragione di pace e di costruttività. Inoltre, concepita, così come io l'ho qui delineata, credo oggettivamente, cioè come un Paese nel Paese, l'opposizione si identifica con un altro potere, che tuttavia è sempre potere. Di conseguenza, gli uomini politici di tale opposizione non possono non comportarsi anch'essi come uomini di potere. Nel caso specifico, che in questo momento così drammaticamente ci riguarda, anche essi hanno deferito all'intellettuale un mandato stabilito da loro. E, se l'intellettuale viene meno a questo mandato, puramente morale e ideologico, ecco che egli è, con somma soddisfazione di tutti, un traditore. Ora, perché neanche gli uomini politici dell'opposizione, se hanno, come probabilmente hanno, prove o almeno indizi, non fanno i nomi dei responsabili reali, cioè politici, dei comici golpes e delle spaventose stragi di questi anni, è semplice. Essi non li fanno nella misura in cui distinguono, a differenza di quanto farebbe un intellettuale, verità politica da pratica politica. E quindi, naturalmente, anche essi mettono al corrente di prove e indizi l'intellettuale non funzionario. Non se lo sognano nemmeno, come del resto normale, data l'oggettiva situazione di fatto. L'intellettuale deve continuare ad attenersi a quello che gli viene imposto come suo dovere, a iterare il proprio modo codificato di intervento. Lo so bene che non è il caso, in questo particolare momento della storia italiana, di fare pubblicamente una mozione di sfiducia contro l'intera classe politica. Non è diplomatico, non è opportuno, ma queste sono categorie della politica, non della verità politica, quella che, quando può e come può, l'impotente intellettuale è tenuto a servire. Ebbene, proprio perché io non posso fare i nomi dei responsabili, dei tentativi di colpo di Stato e delle stragi, e non al posto di questo, io non posso non pronunciare la mia debole e ideale accusa contro l'intera classe politica italiana. E lo faccio in quanto io credo alla politica, credo nei principi formali della democrazia, credo nel Parlamento e credo nei partiti, e naturalmente, attraverso la mia particolare ottica, è quella di un comunista. Sono pronto a ritirare la mia mozione di sfiducia, anzi non aspetto altro che questo, solo quando un uomo politico, non per opportunità, cioè non perché sia venuto il momento, ma piuttosto per creare la possibilità di tale momento, deciderà di fare i nomi dei responsabili, dei colpi di Stato e delle stragi, che evidentemente egli sa, come me, ma su cui, a differenza di me, non può non avere prove, o almeno indizi. Probabilmente, se il potere americano lo consentirà, magari decidendo diplomaticamente, di concedere a un'altra democrazia ciò che la democrazia americana si è concessa a proposito di Nixon, questi nomi prima o poi saranno detti, ma a dirli, saranno uomini che hanno condiviso con essi il potere, come minori responsabili contro maggiori responsabili, e non è detto, come nel caso americano, che siano migliori. Questo sarebbe in definitiva il vero colpo di Stato.